Signori ben ritrovati, ci rivediamo dopo un paio di mesi in questa rubrica La pancia del tifoso. Io devo ringraziare tutti e tantissimi, le decine di migliaia, non sto esagerando, di milanisti, giuventini, che l'ultima giornata di campionato, al mio commento di rientro da Milano, ma anche commentando la vittoria della Coppa Italia allo Stadio Olimpico, oppure la sconfitta di Bologna, mi hanno simpaticamente insultato, mandato a quel paese per usare un eufemismo, non hanno fatto altro che dare e fornire like alla nostra pagina e aumentare la nostra popolarità, per cui un ringraziamento nuovamente personale. Parlare della partita di questa sera non è facile, perché sicuramente una bella dose di fortuna ci ha aiutato a raccogliere questi tre punti che erano un dovere, dopo la straordinaria prestazione del Milan contro l'Udinese, per restare agganciati alla squadra più forte in questo momento d'Italia e sicuramente favorita a vincere lo Scudetto. la volubilità, le mille facce che oggi abbiamo interpretato, le mille recite che abbiamo fornito in campo con le formazioni di Inzaghi premiano alla fine il coraggio di Simoncello, ritorno a battezzarlo così anche questo campionato, che ha avuto la sfrontatezza alla fine addirittura di giocare con un 4-2-4 che è solamente, mi ricordo, di Muriniana memoria quando doveva raddrizzare le partite, doveva andare anche a vincerle e schierava quattro attaccanti. Quindi è stato molto volubile Simoncello, partirei da questo, poi ad andare ad analizzare una partita che abbiamo portato a casa, abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo trovato un portiere fenomenale, Falcone, l'arbitro ci ha messo del suo, se ci fate caso adesso sì dai, cominciamo, c'è un rigore su Dzeko e poi chiaramente non ha mai mai dato la regola del vantaggio. Avevamo subito dei falli, potevamo ripartire e questo fischiava continuamente per darci le punizioni. Forse è da rimandare a Coverciano dove cavolo fanno i corsi per gli arbitri dell'Ajac e rivedere un po' di regole insomma. Male, molto male, passiamo a giudicare i singoli, molto male Gosens, speriamo che si riprenda perché non possiamo affrontare un campionato, una Champions League con un giocatore così, molto meglio quando è entrato Bastoni e Di Marco si è proposto come quinto, però qui lì bisogna trovare una alternativa sicuramente. Sul gol preso sicuramente Skriniar ha le sue perplessità, ma le grosse perplessità le vedo in Andanovic, il quale non ci prova nemmeno a tentare una parata e esprimo molti dubbi su una garanzia, una sicurezza, anche se dopo ci ha fatto un paio di belle parate che hanno salvato il risultato. Quindi rimandato alla partita contro lo Spezia della prossima settimana. Centrocampo un po' lento, lento in Brozovic, lento in Cianoglu, un po' meglio Barella che però ha stufato di tirare al volo così ogni volta in curva, non stoppando mai la palla, cerca vero, l'ha fatti gol così, l'ha fatti, però dai, deve prendere la mira. Decisivo è stato l'ingresso di Dumbo, devastante, chissà se adesso Zanga si sta sfregando le mani perché arriverà il Chelsea con un bel cestino pieno di sterline per portarselo a Londra, speriamo proprio di no. Io comunque avevo pronosticato uno a uno con gli amici dei senza giacca della pancia del tifoso, ci sono andato abbastanza vicino. Signori ci vediamo la prossima settimana per il commento a Inter Spezia e adesso ha già cominciato l'amico Lorenzo con il Milan, quindi invito tutti coloro che seguono questo canale ovviamente clic 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 sulla canale YouTube dei Senza Giacca e mettere like sulla nostra pagina per seguire queste 38 interminabili giornate di campionato, pensate siamo solo la prima e siamo stanchissimi, è vero che il 13 agosto, calcio d'agosto, squadra mia non ti conosco, non ti conosco. Grazie a tutti.